Benvenuti a tutti ragazzi, qui è Tom05, benvenuti in questo nuovo di calcio mercato Oggi il 31 agosto è l'ultimo giorno di mercato e ho visto, su aperto OneFootball ho visto che il Torino, cioè il Chelsea ha fatto veramente un gran colpo e ha preso Zappa Costa dal Torino Sarà un video senza montatura perché è giusto per dirvi, per avvisarvi Poi, oltre a questo, visto anche che la Lazio ha preso in peste due anni dal Varianese anche questo grandissimo colpo da sette direi E niente, noi ci vediamo nel prossimo video in caso ci sono altre notizie vi faccio un altro video Ciao